Adesso è ufficiale, l'astronauta Samantha Cristoforetti ha lasciato l'aeronautica militare, salutando per l'ultima volta la bandiera di guerra del suo reparto, il 51esimo stormo. Cristoforetti resta astronauta dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e un tweet dell'aeronautica dichiara continuerà a portare nello spazio il tricolore italiano. La cerimonia privata è stata seguita da un colloquio con il comandante dello stormo, poi Cristoforetti è ripartita per la Germania, dove risiede attualmente. Astro Samantha, prima donna italiana sulla Stazione Spaziale Europea, è rimasta in orbita 199 giorni fra 2014 e 2015 e si sta preparando a una nuova missione. Entrata in aeronautica nel 2001, Cristoforetti aveva il grado di capitano. I motivi dell'improvviso abbandono della carriera militare non sono noti, anche se notizie di stampa parlano di dissapori con i vertici, in merito al nome del prossimo astronauta che l'aeronautica avrebbe dovuto mandare nello spazio. L'Agenzia Spaziale Europea comunque ha scelto lei.